Salve a tutti ragazzi e ragazzi, noi sul nuovo video siamo insieme a Matteo, che si chiama... Ma... Dove sei Matteo? Qua! Dove? Che si chiama 11HX Perché ha messo il nome da solo ragazzi? Oggi giochere... Questa sarà una serie di mini world Salvo, non posso si spacca di cuore! Zitto Matteo, anche a me mi laggia Ah, ragazzi, cosa succede quando non avete linea? Devo togliere quindi? No, dai su, esce e rientra Soltanto per il wifi, eh? Non posso Invece dovresti Cavoli Matteo Ragazzi, invitiamo Matteo Accetta Come non puoi? Ah, ragazzi Ragazzi Allora No, ragazzi Ragazzi Aspetta Rinvitiamolo Ragazzi Questa quindi sarà una serie dove giocheremo da soli Aspetta Vuoi aspettare per una volta? E noi? Ma dovresti poter entrare? Aspetta Giocano in un altro mondo Punto Zitto Mi dispiace Ragazzi Giocheremo da soli Beh, questa sarà una serie di mini world Io so già quali sono i mostri Perché l'ho provato un po' da solo, ragazzi Devo dire che l'ho provato un po' da solo, ragazzi Ragazzi Voglio fare una serie tutta di Bad Wars Ma Fare una sopravvivenza Fare una sopravvivenza Potrebbe essere molto carino Non fate il caso che ci metto 40 anni per spaccare un albero Ma è il lag, raga È il lag Quindi, raga Allora Prima di tutto Mettiamoci Mettiamoci Questa armatura Molto bellina Anche se si vede Se si doveva vedere Ragazzi Allora Ci facciamo 24 24 Blocchetti No, Matteo Non puoi dire Non Devi decidere tu Se fa Se Nel subito Ragazzi La mia casa sarà qua In mezzo agli alberi Così Se mi serve legna Ragazzi La posso prendere quando voglio Ragazzi Voi direte Ma salvo Ma Tu Ma tu Usi il legno Ma cosa sei Noob Ragazzi Ragazzi Io la posso fare anche in terra Ma contento di tutto Ragazzi Non sono come mio fratello Che vuole sempre cose resistenti Ma contento anche di una cosa di terra Mi basta che Oh la casa No No raga Non è più logico Aspetta raga Aspettate Ho anche sbagliato a posizionare il blocco Raga Però comunque Questo Spero che sia Una serie Perché veramente Ragazzi Io vorrei Che Questa diventasse Una serie Mi allontanava Mi allontanava mio fratello Che Io ho detto Cento volte Quando faccio il video Deve abbassare il volume Ma lui lo tiene sempre al massimo Troppo tardi Matt Quindi raga Allora Abbiamo pochi blocchi Quindi grande così Può abbassare Soltanto Lo spazio Che ci può essere Spazio che ci dovrebbe essere Ecco Raga È abbastanza grandicella Sì Ma dovevo prendere più blocchi Allora Per questa volta Non voglio finire subito Raga Perché raga Non finiremo subito la casa Anzi Massimo Massimo La faremo piccola Perché poi La dovremmo modificare Quando tengo una casa così piccola Poi dove metto Tutte le mie ricchezze Le tue ricchezze Che troverò Ragazzi Questa sarà una serie Niente Minecraft Questa è una serie Di MiniQuart Molto meglio di Minecraft Perché Minecraft Deve volte Lagga proprio di brutto Quindi Meglio di no In più sul cellulare Non ho i soldi Per comprarmi Minecraft Quindi Una serie di Minecraft Sul cellulare Perché con questa Apre ragazzi Puoi far vedere È saltato Il cellulare Però prima di tutto A parte A parte farsi la casa Questo che è Allora Prendiamo questo block E torniamo E torniamo Nella cosiddetta Base Sì Sì Allora Allora Quindi 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 Una Ragazzi Fai pensare Ci facciamo Una Subito Ragazzi 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 Con sei di pane Potremmo farmi la Baguette Ma Non siamo francesi Ragazzi Però comunque Anche i francesi Giocano Quindi Imparate in francese Se volete Un amico francese Ecco Ragazzi Già Troppo alta L'ho fatta Ragazzi In realtà È l'altezza Giustissima Soltanto Che se salti Una Forza Una Forza Però Facciamo bene Subito Un pochino Da Ragazzi Non fate caso Mio fratello Scorreggio Ecco Infatti Non fate caso Lui È uno Scorreggione Di natura È nato È nato Con una Scorreggio Infatti Appena nato Già Scorreggiava Quindi Ragazzi Siete pazienti Per mio fratello Bella Sta casa Ragazzi Sapete cosa La tengo così Massimo La faccio più alta Tanto Non proverò Così tanta roba È blu Quello che trovo In miniera La metto Nelle casse Nelle casse Ma in miniera Ma appena Ho visto Che era Grava Clava Costa Ragazzi Ma io Volevo fare Che Matteo Vive In una Caverna Guardate Guardate Ragazzi Sono arrivato Per qualche strano Motivo Però comunque Ecco Una Mamma mia Quanto è difficile Spaccare con L'ascia di legno Ma già Avere le cose di legno È una brutta cosa Perché Noi Avremo tutto In pietra Poi ci evolveremo Fino al ferro Però per ora Stiamo ai tempi Delle caverne Però Ci stiamo evolvendo Ci stiamo facendo Una Come si detta Tenda Ultimo blocco Di legno Ultimo blocco Di legno È giorno Ancora Sicuro È giorno Se no Ho letto In casa Anche che Non è così Tanto Sicura Però Sempre Una cosa Che posso chiamare Casa Quindi La clava Sarà Molto Facile Da rompere E fa anche Un pochissimo Danno Sì L'occhio E ci stiamo A fare La rompere Ragazzi Devo proprio dire Che mi piace Questa casa Il video si chiuderà Appena finiremo La casa Perché ragazzi Devo dire Un video Non può durare Così tanto Allora Casa finita Nel prossimo video Ci vedremo Questo Questo intendo Quando dico Potremmo un po' Stupido Io qui Sono un Nu Però Non troverò mai Diamanti In questo gioco Perché Nessuno Non da Diamanti In questo gioco Soltanto Hanno Altri Che hanno fatto Mondi Sicuro In creative Ecco E ragazzi Ecco Qui Sì Mi sta bene Poi È tutto La porta Il tetto Non è così Importante Ma Più che altro Non è tanto Importante Ma Visto che qualche Mostra Potrebbe Entrare Dagli alberi Ragazzi È molto Meglio Fare Un tetto Prima Della porta Dai Facciamo il tetto Però Se ce la facciamo Possiamo Fare Una porta No ragazzi Mi sta Che non ce la facciamo Abbiamo Due blocchi Per finire il tetto Ah no Ragazzi Tre blocchi Con tre blocchi Non andiamo Tanto lontano Vaga Ecco Questa porta Aspetta Ragazzi È infatti Ragazzi No Ragazzi Ho sbagliato Ragazzi Ci dovrebbe Stare Ma che Gli serve Più di Una crafting Non lo so Ragazzi Un pezzo Di tetto Non riusciamo A finirlo Un pezzo Però Allora Ragazzi a 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 sto video dura già troppo per i miei gusti per il tempo che ci metto a fare i i vecchi video quelli di mini world dureranno un po' di più e raga me ne ha fatti devo dire però questo gioco questa serie diventerà una serie con un po' di lag un po' uscita dal mondo perchè non mi si aprono le porte poi devo rimanere fuori a farmi shottare ragazzi capito la casa vicino allo spawn proprio come ah no perchè è meglio che poi non sai qua dov'è la tua casa se muori non sai dov'è la tua casa e questo sarebbe un problema poi poi però poi nel prossimo video arrederemo la casa più o meno la arrederemo nel prossimo video la arredere la arredere ci metteremo le cose dentro e prima di tutto è tutto un letto raga sicuro prima di tutto c'è il letto ragazzi è piccolissimo guarda c'entro tutto giusto tutto giusto tutto giusto non si può neanche salta guardate non si salta nuova regola non si salta non si salta non si salta niente tanto insomma non ci interessa ah no a me mi basta a me mi basta avere una casa ok finita ragazzi chiudiamo la porta e questa è la nostra casa ci vediamo nel prossimo video da salvo da salvo da salvo ciao out out